Sì, sono iniziati nella mattinata di venerdì 28 giugno i lavori di demolizione delle vecchie scuole elementari a Rivarolo Canavese. La ditta ha iniziato la demolizione sulla parte che si affaccia in via Roma. Le vecchie scuole sono state oggetto di discussioni e polemiche già nello scorso mandato Rostagno e argomento tenuto in considerazione delle varie liste candidate durante le recenti elezioni. L'amministrazione Rostagno ha deciso di realizzare, nell'area dove ora sorge la struttura, uno spazio aperto, un parco con un'area sport con campi da gioco, area sosta relax, un'area eventi, una verde, una gioco e una per i parcheggi. In disaccordo i gruppi di opposizione, demolizione o no, secondo loro sarebbe meglio modificare la destinazione d'uso, perché Rivarolo, dicono, non ha bisogno di un altro parco e rischia di diventare soltanto uno spazio abbandonato a sé. In ogni caso, i lavori sono stati appaltati prima delle elezioni e ora sono iniziati. Sicuramente ci saranno ancora numerose discussioni in consiglio sul tema, prima della realizzazione del progetto sviluppato e scelto attraverso un concorso di idee nella passata amministrazione. Sì, che vi salire voucheracli, l'hệ perché non si sige. Ok, che vi salire fascino... Stop! ... ... Grazie a tutti.